Ciao a tutti ragazzi, questo è un video molto veloce da pubblicare sul canale che non durerà praticamente un cazzo, se non un minuto circa. E' un video dove semplicemente vi avviso che mi servono le vostre domande, perché io non faccio un ask o un qualcosa da tantissimo tempo, dal video dei 1000 iscritti ma ci rendiamo conto, quindi dobbiamo assolutamente rimediare a questo errore. Come feci nel video speciale dei 1000 iscritti dove è uscito la faccia, lì vi feci utilizzare l'hashtag Agodomanda e io voglio che riutilizziamo questo hashtag. Quindi qui sotto nei commenti fatemi tutte le cazzo di domande che volete però con l'hashtag Agodomanda. Altrimenti non le inserisco nel video. Quindi poi selezionerò un paio di queste domande a cui risponderò probabilmente molte, perché non facendolo da tanto tempo ne prenderò veramente tante. E risponderò in un prossimo vlog in cui lo dedicherò unicamente alle risposte alle domande, perché veramente non lo faccio da tantissimo tempo. Quindi questo video velocissimo finisce qua, è stato veramente flash. Noi ci vediamo prossimamente con i prossimi video e basta, ricordate di farmi tante domande qui sotto, ne ho bisogno. Basta. Ciao a tutti ragazzi da Cezanautix. Ciao a tutti.